Anche il Comitato contro la privatizzazione dell'acqua che si è creato a quarto qualche mese fa parteciperà al corteo di venerdì 28 novembre, il corteo regionale che appunto si schiera contro la privatizzazione dell'acqua. Sì, come Comitato di quarto contro la privatizzazione dell'acqua venerdì saremo in piazza per ribadire l'opposizione a qualsiasi tentativo di mercificare un bene quale è l'acqua. Nell'ottica e nel percorso di iniziative volte a contrastare lo sblocca Italia, anche in Campania c'è stato questo corteo che in primis vuole ribadire la contrarietà a ogni tentativo regionale o nazionale di privatizzazione dell'acqua e in seconda istanza vuole ribadire che non ci faremo sorprendere da nessun tentativo di speculare sui beni comuni come si vuole fare con il decreto sblocca Italia. Perché è importante che i cittadini aderiscano a questa iniziativa? È importante perché come già dimostrato dai cittadini del lato 3 che hanno avuto tramite Gori un innalzamento significativo delle bollette sappiamo e capiamo quanto sia importante tutelare il bene pubblico acqua perché un bene di tale importanza per la vita umana non può essere lasciato ad una gestione privatistica. Per chi dalla zona flegrea volesse raggiungere il corteo dov'è l'appuntamento? L'appuntamento da quarto è alle 14.30 alla cumana di quarto centro per muoversi assieme al comitato oppure alle 15.30 a piazza Mancini. La manifestazione si svolgerà da piazza Mancini, cioè quella adiacente a piazza Garibaldi, fino al palazzo della regione che è il palazzo Santa Lucia.